che bello ma voi sapete il mio sogno io sono 15 anni che dico che voglio amo la carra è unica è carismatica io sono al suo fianco bello ma è la cosa vera oh io la amo la cosa bella ma che è vera no ma sto tremando non mi guardate perché io adesso sbaglierò ma non è non sarà una tecnica per far sbagliare me signorina no tu durante le prove non hai sbagliato mai sono io che tremo non te allora allora mi dare le botte yes ok allora adesso noi danzeremo un pezzo famosissimo arrangiato in maniera straordinaria e modernissima da Tony De Vita che è il nostro maestro e il pezzo è super conosciuto vai I got rhythm I got music vai grazie a tutti 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 Grazie a tutti